Ben trovati dal Tg della Mobilità, gli eventi della giornata di oggi, riflessi sulla viabilità fino alle 11.30 nel quartiere Giuliano Dalmat, evento sportivo con partenza e arrivo in via Oscar, Sinigaglia, temporanei chiusure e deviazioni per nove linee. Dalle 12 alle 18 in piazza Vittorio Emanuele II, iniziativa in occasione del capodanno cinese, prevista la partecipazione di 2.500 persone, dalle 10.30 alle 14.30 evento all'auditorium della conciliazione, modificate le linee 23, 40, 62, 280 e 982. Nel pomeriggio all'Olimpico, dalle 16 Italia-Francia per i sei nazioni di rugby, nell'area del Foro Italico scatterà il consueto piano trasporti contemporanei chiusure al traffico e di vieti di sosta. In alternativa al trasporto pubblico, lo stadio si potrà raggiungere con 16 linee provenienti dai diversi quartieri cittadini, potenziate inoltre le linee 2 e 32. È tutto per questo appuntamento con il Tg della Mobilità.